Ok ragazzi, a Khan 66, guardate la performance, è incredibile avere un'alta performance. Carte tutte diverse, le carte vanno mescolate, ok? Completamente. Quindi c'è il suo o lì della base di carte, ok? Chiedo una carta, ma guarda, dimmi una carta del gioco che vuoi tu. Guardami se vuoi, quella che vuoi tu. Asso di cuore. Vuoi cambiarla? Sì. Vuoi cambiarla? Sì. Donna di cuore. Donna di cuore, ok. Io apro tutto così, in modo che tutto decisamente, mamma mi dice il numero della 52, è quello che vuoi tu. Il numero che vuoi tu. 22. 22, vuoi cambiarlo? Brava. Ok, guardate ragazzi, tutto mescolato, ok? Io chiudo solo tutto, così. Chiuso. E consegno allo spettatore, ti può anche squadrare se vuoi. Se la 22 è una carta, fosse la donna di cuore, ragazzi, è incredibile. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.